Giornata di sciopero proclamata da CGL Will a sostegno della sicurezza del lavoro per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa. La protesta è durata 4 ore per tutto il settore privato e 8 ore per l'edilizia. A Napoli servizio a singhiozzo per i bus e i tram, ferma nella fascia oraria 9.13 la linea 1 della metropolitana, aperte le funicolari centrale Mergellina e Montesanto. Pesanti le ripercussioni per gli utenti e anche quelli delle linee gestite dall'Eav come la Circo Vesuviana, la Comana e la Circo Fregrea. Regolare il trasporto ferroviario regionale che si fermerà domani per 8 ore dalle 9 alle 17. E in piazza del plebiscito si è svolto dalle 11 alle 13 il presidio di protesta dei lavoratori. Intervenuti in piazza i segretari generali di CGL Will Napoli e Campania Nicola Ricci e Giovanni Sgambati. Ascoltiamo. Abbiamo scioperato, siamo in piazza insieme la Will per dire bassa davvero e passare delle parole ai fatti. Questo governo nell'incontro di ieri non dà risposte sul fatto che non si può morire sul lavoro e bisogna intervenire subito per bloccare gli apparti a cascata, una normativa certa, prevenire, vigilare ma soprattutto formazione dei lavoratori. Abbiamo ribadito la prefettura e cogliamo l'occasione domani del protocollo su Isca che possa essere esteso anche ad altre realtà come la città metropolitana di Napoli. Sicuramente continueremo a fare battaglia finché non avremo il riconoscimento dell'omicidio sul lavoro, una procura speciale per contrastare ovviamente la insicurezza che c'è nel mondo del lavoro e in più vogliamo interventi mirati su fisco e difesa della sanità.